...di ogni altro mio bene, il signor Antonio Gallina. Schiacerebbe. L'eredo universale del Comendatore Volpone è il qui presente signor Antonio Gallina. Che ho fatto? Devo sentire il caffè. Invece! Ma non è possibile! Ma che c'entra quello? Ma non può essere! L'ho visto io, Volpone, che scriveva il nome mio! È uno scherzo! Notario, ci dica che è uno scherzo! Mi faccia leggere! Maledetto! Ci ha fregati su! Ci deve essere un errore! Ma nessun errore, il testamento è valido! Ah, questo lo vedremo! Ah, io nel pugno, quel testamento! C'era il scritto! Ma te l'ho assicurato, che sei nel mondo mio! Ma te l'ho assicurato, che sei nel mondo mio! Ma a quale è il mondo mio! Ma a capriamo! Viti! Grazie, Carlo. Se avete la compiocenza di sedervi, posso continuare a leggere il testamento. Vi domanderete perché ho scelto proprio gallina. Non cercate spiegazioni romanzesche. Non è il mio amante, né un lontano parente ritrovato dopo tanti anni. Lo conosco appena, e l'unico aspetto notevole che trovo in lui è la sua totale, granitica, sbalordiglia e diversità. Ma di chi sta parlando? Oh mio Dio! Ma allora, vi chiederebbe, perché? Perché la vita è così. Ingiusta, insensata. È breve. Grazie.